Lontano da casa non vinco più, l'Arezzo cade anche a Pineto e incassa la seconda sconfitta esterna consecutiva dopo quella di Pesaro. 4-2-3-1 per Troise con Renzi terzino, Settembrino e Mavuli in mezzo al campo e 3 a supporto di Ogunzeie, alla sua prima da titolare e preferito Agucci. Gli Amaranto partono con il piglio giusto e la prima occasione arriva con un colpo di testa di Ogunzeie che Tonti riesce ad intercettare e spedire in corner. Pochi minuti ed è ancora il numero 9 sempre di testa a cercare il gol sul cross di Tavernelli ma Tonti blocca. L'Arezzo crea ancora e su un angolo insidioso di Guccione Tonti è costretto a smanacciare ma il Pineto che alla prima occasione passa in vantaggio. Lancio lungo sulla destra, pallone scaricato a Del Sole che punta a secco Gigli, fa partire un gran sinistro che Fabrizi tocca di testa quel poco che basta per mettere fuori causa Trombini. 1-0 con Gli Amaranto che ancora una volta vanno sotto nel punteggio. L'Arezzo prova a reagire ma con poca convinzione e il Pineto riesce a chiudersi meglio forte del vantaggio. Truise prova a risolverla con i cambi inserendo Gucci, Gadini e Lazzarini al posto di Ogunzeie, Tavernelli e Mavuli. È pericoloso pattarello quando viene servito sulla destra, punta Borsoi trovando il fondo e cross al centro dove Gucci non riesce a coordinarsi. L'Arezzo non riesce a trovare lo specchio e i padroni di casa ne approfittano. Cross di Borsoi dalla sinistra, palla che spiove in area dove Pellegrino, appena entrato, mette il piede in scivolata anticipandole il Fabro e spedisce la sfera in rete firmando il raddoppio. Passano appena 10 minuti e il Pineto la chiude. Bruzzaniti riceve al limite e punta Lazzarini che lo trattiene e per l'arbitro Pasquilli è rigore. Dagli 11 metri va lo stesso numero 10 che spiazza Trombini e chiude i conti. L'Arezzo che comunque ci prova anche sotto di tre reti. Lancio di Guccione, pattarello sterza e calcia ma viene murato da Dutu. Palla che arriva tra i piedi di Gaddini che piazza sul palo lontano ma finisce fuori di poco. Nei minuti di recupero su un calcio di punizione De Santis tocca con il braccio e il rigore arriva anche per l'Arezzo. Sul dischetto va pattarello che incrocia alto e segna il suo quarto gol in tre partite a Pineto dove evidentemente trova particolare ispirazione. Finisce 3 a 1 al Pavone Mariani. Arezzo che rimane fermo a quota tre punti ma nell'anticipo di venerdì contro il Legnago potrà contare su un fattore non da poco ovvero il supporto di tutto il comunale. Grazie. 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 Grazie.